Mettere freno all'entusiasmo di una tifoseria che Massa ha voluto salutare la squadra prima della partenza per il ritiro di San Giovanni Rotondo. Sarà difficile ma a Cerignola nessuno ha intenzione di arginare un'onda lunga che dura da tre stagioni, tutte vissute in testa alla classifica sino ad approdare al campionato di Serie D. Si riparte da qui con la stessa guida tecnica, Francesco Farina è stato confermato subito dopo la vittoria nel campionatore eccellenza ed una squadra che la dirigenza e il direttore sportivo Mariano Fernandez hanno ulteriormente rinforzato. L'obiettivo dichiarato è quello di divertirsi e far divertire i tifosi sapendo che nel prossimo campionato di Serie D il Cerignola, anche se da matricola, vorrà vestire i panni da protagonista. Noi abbiamo un progetto tecnico, il direttore Mariano Fernandez abbiamo deciso gli uomini in base al progetto. Abbiamo preso tutti i giocatori che ci interessavano e comunque penso che fino adesso non abbiamo sbagliato niente. Poi sarà il campo, sulla carta siamo bravi, poi sarà il campo a dire se siamo stati bravi. Ci manca qualcosina in dei singoli reparti però sono quelle cose che dobbiamo fare un po' di rifinitura e dobbiamo cercare di trovare qualche tassello giusto che determina la rosa finale. Il tecnico di giallo-blu gioca d'esperienza nell'immaginare il ruolo del Cerignola nella prossima stagione ma sa bene quanta responsabilità ci sia sulle spalle di questa squadra tornata in Serie D dopo quasi 20 anni. È un anno importante per noi anche perché ritorniamo in categoria dopo tanti anni e quindi ci teniamo a fare bella figura anche perché la società mi ha messo a disposizione un organico importante e i tifosi già da oggi sono fatti sentire quindi ci sono tutte le situazioni importanti per fare bene. Ad allungare la lista di acquisti eccellenti l'attaccante Montaldi, il difensore di Bari e il centrocampista Iennini c'è anche l'arrivo del lander Emanuele Adamo, attaccante esterno che sarà in gruppo nel ritiro di San Giovanni Rotondo. Sul Gergano il Cerignola disputerà due amichevoli, la prima il 31 luglio contro una compagine locale mentre il 10 agosto sfiderà il Monopoli in un vero e proprio antipasto della stagione che prenderà il via il 20 agosto con la Coppa Italia.